A questo punto chiedo al sottosegretario De Mistura se vuole venire al podio, prendere la parola e darci il suo contributo. Siamo particolarmente grati al sottosegretario per aver trovato il tempo di venire da noi in una giornata in cui le notizie nel suo settore di responsabilità sono molte, sono anche positive. Da quelle di un'apertura di uno spiraglio giudiziario per la vicenda dei Maroi in India alla liberazione dei sei marittimi italiani e dei loro colleghi di altri paesi che erano trattenuti in ostaggio in Somalia. Grazie, grazie mille e grazie di questa opportunità. Prima di tutto voglio dire quanto utile è questo tipo di rapporto e quindi vi ringrazio a nome del Ministro e del Governo perché non soltanto in Italia ma in tutti i paesi c'è bisogno della possibilità di un brainstorming esterno in cui si faccia un po' l'analisi delle lessons learned, delle lezioni apprese e lo si faccia con anche durezza, con fermezza ma con realismo. E quindi il rapporto ci è utile, anzi molto utile perché noi abbiamo bisogno costantemente di essere in qualche maniera stimolati. Noi quello che abbiamo bisogno è non soltanto l'Italia, di una visione. Ora, la realtà è che avere una visione non è facilissimo in questo momento. Non è facilissimo perché avere una visione vuol dire anche avere una identità particolare, poter marcare l'identità di una nazione. E questo quando l'Italia, ma gli altri anche, sono parte di vari gruppi e quando bisogna mediare una politica comune. Parlo di Nazioni Unite, parlo di Unione Europea, parlo di Nato. E alla fine per poter avere un'identificazione particolarmente identificata con una nazione bisogna trovare la propria nisce. Faccio un esempio piccolo anche su quello che era l'anno passato. L'anno passato ero alle Nazioni Unite, quindi vedevo in termini globali alcuni di questi eventi. Vi posso garantire che quello che è apparso un anno ribilis, un anno difficile, un anno di transizione, per qualunque motivo, di politica interna nostra o di politica internazionale, francamente valeva molto per molti altri anche. Mi trovo difficile a trovare in questo periodo, in quell'anno, una sola nazione che avesse un brainstorming dopo dicendo che è stato un anno facile, un anno in cui abbiamo trovato la nostra identità. Ora, saltiamo per un momento in India e vediamo il paese in cui abbiamo avuto alcuni momenti interessanti. Ci fu detto poco fa, pochi giorni fa, poche settimane fa, che l'Italia non contava abbastanza e che il peso dell'Italia sarebbe stato molto più alto se avessimo potuto farlo valere. Bene, proprio in quei giorni, e vi do questo come esempio, mi ricordo ero proprio a Deli, anzi attrivandolo in quel momento, quando uscì fuori la notizia pubblica in cui si disse che gli Stati Uniti d'America, gli Stati Uniti d'America, avevano chiesto formalmente all'India di evitare, limitare le importazioni di petrolio di greggio dall'Iran. E la risposta del governo indiano fu, noi siamo una grande nazione, abbiamo il diritto di fare ciò che riteniamo meglio per il nostro paese, non ci facciamo indicare alcuna di queste decisioni da nessuno. Quindi, in effetti, anche gli Stati Uniti avevano qualcosa da domandarsi se forse non ci si era abbastanza dedicati a una parte del mondo che stiamo scoprendo, scoprendo nell'Orissa, stiamo scoprendo nel Kerala, delle nazioni che hanno delle complessità, delle importanze, delle nuove identità, nelle quali poi ci troviamo, volenti o nolenti nel caso della nave, ci siamo trovati nolenti, presenti e quindi a dover affrontare questa realtà. Ora, guardiamo però il futuro. La lezione che stiamo apprendendo oggi, lo leggeremo con attenzione, è che dobbiamo trovarci, con la politica di questo governo e di quelli che verranno, una identità, nonostante la difficoltà di trovarla. Ora, uno dei punti principali è l'Unione Europea. Il governo Monti è stato, in fondo, creato, se volete, per poter affrontare una crisi che ci toccava da vicino. E credo che la linea lì è cambiata e sta cambiando, e vedremo come cambierà anche in futuro, ma da parte del problema si è diventata parte della soluzione. E questo a volte succede quando si è parte del problema e si trovano delle formule creative. E l'altro è di contare di più e poter essere contati di più. In poche parole, quando diamo la nostra parola, la manteniamo. E credo che questo, nel contesto europeo, è già notato. E dobbiamo semplicemente continuare a farlo e capitalizzare su questo. Medio Oriente, e c'è il mio amico e collega che ne parlerà certamente. Ora, è vero, ritengo anch'io, ma questo vale per molti, francamente per tutti, anche per l'ONU in quel momento, fumo tutti colti di sorpresa dalla primavera araba. E fumo colti di sorpresa dall'entusiasmo dei giovani e qualcuno che non avevamo considerato capace di farlo, invece l'hanno fatto. Però c'è adesso l'estate araba. E credo che in questo contesto noi abbiamo molto da fare. E possiamo fare. E credo che l'Italia, il governo attuale, e sono sicuro in futuro avrà anche, grazie a esempi belli come quelli della Tunisia, che stiamo vedendo, e altri, noi possiamo, visto che siamo proprio sul Mediterraneo, giocare la nostra carta di identità, ma anche di sostegno, a quello che è il futuro della primavera araba, perché si possa consolidare. In questo c'è una niche tipica di cui ci si aspetta l'Italia, anche da parte delle altre nazioni in Europa, vista la nostra posizione geografica, a occuparsene. Africa. L'Africa è stata largamente dimenticata, non so se nel rapporto viene notato. E credo che in questo contesto, ne parlavo proprio oggi con il Ministro Riccardi, c'è una maggiore necessità da parte dell'Italia di riscoprire il fatto che l'Africa è veramente a due passi da noi. Quello che avviene nel Mali, per esempio, attualmente, che alcuni ritengono, se non venga in qualche maniera osservato con attenzione, un potenziale zona di esplosivo futuro, non volendo, Dio non voglia, Afghanistan, a due passi da casa nostra, è una zona dove la quale noi non possiamo ignorare, visto che è veramente molto più vicino che l'Afghanistan. E questo vale anche per molte altre nazioni africane, che stanno facendo grandi sforzi, ma che allo stesso tempo sono, in fondo, paesi che meritano attenzione, visto che altrimenti tutto si sposterebbe verso di noi. Nell'Asia, lo sistema paese. Il Ministro Terzi, adesso, proprio in questo giorno, in questi giorni, sta visitando i paesi asiatici con il concetto sistema paese, che nessuno ha mai voluto dubitare che è un grande elemento di forza di politica estraitaliana, a condizione che sia sistema paese. visite in Corea, visite in Cina, in Giappone, sia del Ministro, ma prima ancora, del Presidente del Consiglio Monti. E poi, e poi, i diritti umani. Ci sono dei punti sui quali l'Italia ha sempre avuto una capacità di essere identificata come un paese che ci crede e che li difende. Quindi, sostegno classico all'Unione Europea, però, non essendo più un problema, ma essendo parte della soluzione, con proposte continue. Sostegno le Nazioni Unite con le operazioni di peacekeeping in maniera operativa e nessuno può dubitare quello che abbiamo fatto e stiamo facendo. Per quello che riguarda, invece, la Nato vale di nuovo le operazioni di peacekeeping. Medio Oriente estate. non possiamo questa volta essere in ritardo e per i diritti umani dobbiamo essere presenti dovunque come l'abbiamo sempre fatto e non costa molto ma è un fatto di potere morale. E finalmente sistema paese. Almeno così ci troviamo le nostre niche perché altrimenti evidentemente sarà difficile poter giocare una politica estera con i mezzi che abbiamo ma che qualunque paese oggi non ha più. Neanche gli Stati Uniti. Grazie. Grazie.